Ciao amiche, ciao amici, nel corteggiamento mai dire mai, quando corteggi una donna devi tenere presente che ci sono dei momenti in cui magari lei non sembra distante, distaccata, ma se tu continui utilizzando la tecnica push-pull, cioè in fasi alternate a dimostrare interesse e poi allontanarti, puoi dimostrare interesse e poi allontanarti per vedere quando lei ti segue fondamentalmente, perché è un po' come si fa con i pesci, diciamo, butti un po' di pastura, di cose così senza esca, per vedere che i pesci se vengono a boccare o meno, nel momento in cui abboccano, vedi che iniziano a mangiare, allora dopo butti l'esca con l'amo e nel corteggiamento più o meno la pratica è la stessa. L'unica regola di cui devi tenere presente è che non devi farlo per bisogno, devi farlo per gioco, per diletto, quindi un corteggiamento, quando corteggia una donna deve essere innanzitutto un divertimento, quindi lo scopo deve essere quello di divertirti, di, diciamo, riuscire a capire quali sono le strategie migliori per riuscire a conquistarla, sedurla, ma non devi essere bisognoso, quindi ti conviene portare avanti, portare innanzi diversi giochi, diversi giochi di seduzione, diciamo, su, con donne diverse, perché questo ti permette di essere più libero, di essere più distaccato e viverselo con giocosità, perché il corteggiamento, la fase di seduzione è una fase di gioco, al momento in cui la fai diventare fonte di felicità o infelicità, ti castri da solo, è come se prendessi il coso e te lo tagliassi, perché non hai più possibilità di agire, resti bloccato, resti vincolato, ti metti da solo in una posizione, diciamo, orto statica, bloccata, per cui la cosa fondamentale è quella, fare diversi giochi, divertendoti, vedendo quali strategie puoi adottare e vedendo anche donne diverse, perché, diciamo, agendo con donne dalla personalità diversa, puoi imparare moltissimo, perché puoi cogliere, diciamo, aspetti diversi in ogni donna, puoi renderti conto che magari con una tipologia, sono cose che impari, perché, diciamo, oltre alla teoria, che è molto importante sviluppare, capire a livello teorico le cose, poi vanno però provate, vanno sperimentate, perché soltanto durante la sperimentazione che puoi mettere in atto, diciamo, ciò che hai imparato e approfondirlo e vedere come si adatta a te, perché poi ogni persona, ogni persona è diversa, e quindi mai demordere, perché se uno ti dà un rifiuto, è stato un rifiuto a quell'approccio lì, poi la lasci un po' da parte, poi a ruota, diciamo, piano piano, ogni tanto ritorni, e se tu hai, diciamo, hai pazienza e, ripeto, in questa ruota ne fai girare diverse, poi arriverà anche quella che becchi il momento giusto o la strategia giusta, tu sei più in forma, si sono create le condizioni per far maturare il suo seme e raccoglierai il suo frutto, quindi mai demordere. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta, inoltre, se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ciao!